Ha preso servizio oggi il nuovo commissario del governo di Trento, Filippo Santarelli, originario di Rieti, 64 anni, succede a Gianfranco Bernabèi. Santarelli ha lavorato alla direzione investigativa antimafia ed è stato questore a Frosinone, Modena, Firenze, prima di diventare direttore dell'ispettorato di pubblica sicurezza a Palazzo Chigi, l'ultimo in carico prima di Trento. Prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e il dialogo per valorizzare l'autonomia, le sue priorità. E allora sentiamolo al microfono di Nicola Chiarini. Questi sono problemi molto seri che affronteremo con grande determinazione. Su questo ci sarà un'interlocuzione non solo fra le forze dell'ordine e le altre istituzioni, ma anche con la magistratura, proprio per garantire la massima attenzione e il controllo più approfondito per evitare infiltrazioni della criminalità organizzata che tanto male possono fare a questa importante economia. Quindi l'attenzione è massima, il rispetto è massimo verso ogni forma di autonomia, ma già so dai miei predecessori che il rapporto è molto stretto e sinergico e proficuo e continueremo su questa strada.